Signore e signori, bentornati! Bentornati a Bricioli di Storia, mi intrometto così brutalmente perché parliamo di qualcosa che mi emoziona. Beh, sì, penso di condividere questa emozione perché le mille lire sono una cosa assolutamente simbolica. Non dei tempi di potessi avere mille lire al mese, un momento dopo, ma comunque una cosa della sua importanza. Le cosiddette mille lire di Verdi con, da questa parte, la cosiddetta arpa estense, uno strumento che esiste realmente, è conservato dal Museo di Modena e che risale al 1558. Devo dire che, scusate, posso iniziermi un attimo, perfettamente conservata. Perfettamente conservata che ci è stata apprezzata da Paola, che ringraziamo. Che ringraziamo, assolutamente. Vediamo anche l'altro lato. Siamo tra gli anni 1960 e 1980. E questa era la... Il teatro alla scala, sull'altro verso. Sicuramente. Beh, un po' grigine come banconote, però le ricordo, le ricordo vagamente perché sono andate fuori corso poco dopo i miei ricordi. Da che anno che anno sono state... 60-80. 60-80... Sì, sì, me le ricordo, ma poco poco. Parleremo anche di quelle successive, poi. Certamente sì, ma vogliamo tornare indietro nel tempo, perché questo è lo scopo della nostra trasmissione. Che cosa ci facevi con questa banconota? Ci prendevi tre litri di benzina? Tre litri di benzina? Volendo fare... Oppure facevi 5.000 di benzina e te ne davano di più. 15 litri di benzina. Io ricordo almeno 10.000 lire ai miei tempi. Io ricordo che avevo fatto 5.000 di benzina. 5.000 di benzina. In qualche momento drammatico, in cui era vuoto sia il serbatoio sia il portafoglio, forse anche meno. So che un calcolo che non andrebbe fatto, oggi 1.000 lire sarebbero 50 centesimi. Sì. Circa. Sì, ma c'è una cosa che si chiama inflazione, che nel frattempo... Sì, ovviamente, no? Era un calcolo che non si può più fare, però era giusto così. Bellissima anche la stampa, è bellissimo il ritratto di Giuseppe Verdi. Sì, potevamo anche prenderci un paio di gelati di quelli buoni, di cornetto di quelli buoni, o forse anche... Possiamo anche dire la marca, gli Algida o la Samson. Tanto ci danno un sacco di soldi, quando noi facciamo queste pubblicità, sono pietate queste pubblicità nascoste, Non sono quelle nascoste, le vendette proprio palesemente. Facevano anche... No, perché se tu lo dici all'interno della trasmissione, non è pubblicità dichiarata come tale, e lo tu dici a caso, citi a caso come si rende a caso. Ma noi abbiamo parlato di prezzi degli anni 80, quindi... Sì, ma se tu dici un nome di un prodotto, dopo, nascostamente, l'azienda ti dà un sacco di soldi. Ma tanti, però. O paga in gelati, in questo caso. Va bene, va bene su due le cose. Va bene. Diciamo che abbiamo perso forse fin troppo tempo per parlare di una banconota che comunque ha segnato la storia di molte, molte persone. E certo, era una cosa familiare. Certo, è una roba rara, però. È una cosa che ci trasporta indietro, che ci emoziona, ci commuove. È una cosa che riguarda tutti, 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 tutti. È una cosa bella, mi entusiasmo. Non la restituirò. No, assolutamente. La spenderemo. Sarà difficile, ma proveremo a spenderla. Su questo vi salutiamo, vi ringraziamo, vi chiediamo di seguirci su Facebook, iscrivervi a YouTube, e ci vediamo al prossimo video.